Picchiato sotto casa, poi minacce, intimidazioni continue, l'ultima, una lettera contenente, un proiettile. Parliamo dell'incubo che sta vivendo il giovane vice sindaco di Mondragone, è andato ad intervistarlo per noi, Giano Occhetti. Aggressioni fisiche, bombe sotto casa, proiettile in busta, chi glielo fa fare vice sindaco Soccolo? Me lo fa fare la voglia di voler cambiare questa città. Veramente? Sì, veramente. Cosa ha fatto questo giovane mite geometra per scatenare una simile reazione? Siamo a Mondragone, sul litorale Domizio, dove la camorra incontrava e impartiva ordine agli amministratori e funzionari e a raccontarlo è un pentito illustre, Giuseppe Valente, ex amministratore del Consorzio per i rifiuti Eco4, un comune nel quale per decenni in pochi hanno lavorato e i soldi sono stati eragiti a balanga, soprattutto a personaggi legati alla camorra. In questo contesto basta poco per fare la fine del vice sindaco.